Vigilia della sesta giornata nel girone G di Serie D, il San Marzano renderà visita all'Ischia, mister buon pomeriggio, è probabilmente il match meno pronosticabile della giornata, l'Ischia arriva da un sonoro 4-0 in trasferta, il San Marzano ha trovato finalmente la prima vittoria, finalmente il gol oltre al gioco, quindi è una gara da tripla da affrontare assolutamente con le pinze. Ma incontriamo una squadra, penso che quando una squadra vince 4-0 fuori casa, è la squadra più in forma in questo momento che c'è, perché non è facile in questa categoria andare fuori casa e vincere come ha vinto l'Ischia. Questa è una squadra ben allenata, corre tanto, l'ho detto anche ai miei calciatori più giovani, che è una grande prova per loro, perché siccome è una piazza calda, quindi domani hanno la fortuna i miei calciatori di giocare con una bella cornice di pubblico, è una delle prime, poi ce ne sono anche altre, quindi è un grande banco di prova per loro, perché il calcio, se vogliono fare calcio vero, è quello di domani, perché dalla Serie C in su ci sono sempre campi caldi, e quindi è una banca di prova per la squadra, ma tanto per i miei calciatori giovani. Questa è stata una settimana un po' più serena, non che sia mancata la serenità durante le settimane precedenti. Avendo trovato la vittoria è arrivata quell'ulteriore consapevolezza in più di aver fatto un buon lavoro, la romana si è dimostrata, si è confermata, un'avversaria di rango, un'avversaria di categoria, perché poi nomi altisonanti non ce n'erano, però le difficoltà in campo si sono viste. Ma ogni partita c'è una difficoltà. Dobbiamo pensare a quelle domani, perché c'è un attaccante come Talama, che ha fatto la Serie C anni passate, adesso quest'anno sta avendo continuità in queste prime partite di gol, quindi è in fiducia, ci sono giocatori come Baldassi, ma è una squadra che corre, quindi dobbiamo pensare all'ischia, dobbiamo andare là e battagliare palla su palla, perché gli schitani sono duri ed è bella, quindi sarà una partita che dobbiamo essere concentrati su tutti i palloni. C'è anche una freccia in più al tuo arco, in settimana abbiamo ufficializzato il tesseramento di Melio, un calciatore di qualità che può darti un'ulteriore soluzione, sia a centrocampo che in attacco. Sì, questa mezza punta che si può dire no, che mancava perché tutte le nostre trequartisti che avevamo erano tutti i mancini e quindi adesso abbiamo anche questa ulteriore soluzione in più. Melillo è un calciatore che da cinque o sei anni fa questa categoria, ha fatto sempre bene da Troina a Vibo a Francavilla, quindi è un'altra freccia messa nel mio arco e quindi cerchiamo di sfruttarlo al meglio perché è un giocatore con tanta qualità. Si spera anche in una bella giornata così ci sarà un seguito ancora maggiore di tifosi del San Marzano. Ma i tifosi ci seguiranno sicuro perché se sono venuti in Sardegna verranno anche domani e non è normale che dobbiamo avere sempre rabbia perché dobbiamo cercare di mettere più squadre sotto di noi. Eravamo penultimi settimana scorsa, abbiamo messo qualche squadra sotto, adesso dobbiamo cercare di fare un altro postettino e cercare di mettere altre squadre sotto di noi.